Il Dietro le Quinte Siamo in cucina da Erminio Ciao Erminio Ciao Erminio è un grande tutuber E non sente però Sei qua Erminio Lui è il nostro cuoco Ciao Sta preparando i pomodori Guarda che rompa l'obiettivo No non lo rompi l'obiettivo E ogni giorno prepara il cibo a queste giovani donzelle Che avete visto nel video Lei non vuole stare assoluta Perché dovete sapere che loro Hanno una giornata molto particolare Che magari un giorno ve la farò vedere Perché queste furbette Si allenano tutto il giorno E mangiano il cibo di Erminio Che è molto buono vero? Buonissimo Super buono il cibo di Erminio Non lo so Come non lo sai? Il Erminio E quindi oggi Praticamente Avete visto Non so quando Il video dove Sono stata con loro in palestra E mi hanno fatto fare un sacco di cose Tra l'altro Le mani non le ho neanche lavate Sono piene di magnesia Mangerò con la magnesia E oggi siamo state invitate A pranzo da Erminio Cioè in realtà Voi avete già finito di mangiare Ma siete furbette Siete rimaste qua Con me Dai qualcuno si sieda Facciamoci un po' di compagnia Se Erminio non ci sbatte fuori Caccola ti vedo Puoi venire qua anche te Sì sì ti vedo Che stai per scappare Allora abbiamo qua La nostra infortunata Ciao piccola infortunata Come hai fatto a infortunarti? Ero facendo un allenamento Prima dei mondiali Ah aspettate Dei mondiali Anche io faccio i mondiali Di come si mangia la nutella ragazzi Sono classificata al primo posto Su come si mangia la nutella Quindi Esatto Stai facendo un allenamento Prima dei mondiali e Ero a Doha A Doha E spiega dov'è Perché loro non sanno dov'è In Qatar In Qatar Non sanno neanche dov'è il Qatar Non il Qatar Quello che vi viene qua È una nazi No no il Qatar È in Africa È in Africa Si è fatta aiutare Non vale dall'insegnante E cosa hai combinato? Stavo facendo l'esercizio alle parallele Con Kakuka È brava Ti hai detto vabbè Oggi voglio spaccarti un gomito Sì E ce l'hai fatta Tu che mangi la Mila Che cosa ci racconti? Io Eh no no lui Lui che man... Non lo so Ok Una cosa bella della tua vita Che ti piace Oltre alla ginnastica La mela La mela No No La mela la mangi perché Se no Arminio ti strozza Te la va a mangiare tutta Eh Il sushi Il sushi? Ma sei come Sasha Allora il sushi Le piace il sushi Anche a te piace il sushi? Non so come sia Non è certo Andra hai già finito il piatto Avevi così fame Erminio cucina troppo bene Aspetta che sto zoomando a vedere quanto sei bella Mamma che... Non so se sei più bella Tu o l'olio dietro L'olio 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 Adesso vieni qui E' pure sbagliato No no ti sto guardando Guarda che tu sembri lontanissima Invece ti sto inquadrando vicinissima Vola qui da me Vola a dirmi qualcosa di bello Qual è il tuo animale preferito? Sai quanti gatti ho io? Undici Dopo te le faccio vedere tutti Lei è un po' timidina Ma non ha ginnastica Ginnastica sei bravissima E guardate le brave Che brave le devi vedere il centro Gnam cetrioli Gnam cetrioli Gnam cetrioli Gnam cetrioli Dopo Dieci addominali di punizione No 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 Dopo ti fai dieci addominali di punizione Dai raggiate Cominciamo a mangiare Manzoglia Ecco Adesso scendo le scale di Erminio Tienimi Ah no Ok stiamo facendo le scale No perché prima mi hanno fatto fare la discesa Adesso torniamo in palestra E quello che volevo dirvi È che veramente è curiosa la loro vita Quindi se voi lo vorrete E loro lo vorranno Vi racconterò un po' Non mi stavo inquadrando agli occhi Quelli che combinano queste Befane Guarda che freddo c'ha questa Scaldami un po' che ho freddo Anche ho freddo Eh brava Dammi un po' della tua giacca Rientriamo in palestra E vediamo che cosa combinano Vero che voi volete vedere Andre Che fa una capovolta? Si Dai Andre così va Piti tutta la pasta con le zucchine di Erminio Se vuoi ti faccio vedere Andre che dorme Vai faccelo vedere Andre che dorme Devi iniziare Prima lo stretching Si Ah lo stretching delle mani E poi E poi quando finisce l'esercizio Tra qualche ora Ah tra qualche ora Ok Cosa state aspettando il messia? Eh? Si Vi riposate un po' C'è la furba Hai voglia di giocare con noi Si ma se me lo dici che a te Cioè fai 18 ribaltate e 7 flick E poi ti ribatti a trovarti su una trave A cosa giochiamo? A palla prigioniera A palla prigioniera Andre hai voglia di fare il cameraman? Dovemmo giocare a palla prigioniera? Vai Vai E' già finito il tuo momento pisolino? Si Ci dispiace Vero che ci dispiace molto? Si Lei è una nuova ginnasta Ciao nuova ginnasta Ciao Eh beh Le piccole stanno vincendo Vi dico solo voi Eh perché la tua è in squadra Scappa Va Ha fatto Ha fatto senza Ah Ah Presa! Mi ha colpito Mi hanno distrutto queste bimbe Dov'è il cane? Bene come passate poi la vostra pausa Questa fa un cavallo Un po' strano Con qualche problema ma va bene Dai la yoga challenge Vai Andre Mi devo togliere i pantaloni per fare la yoga challenge Mi hai fregato la compagna Mi hai fregato la compagna E' mia Prego ognuno inventa una posizione Si esce benissimo Non posso scapparla così anch'io Si tira benissimo No al contrario Sabri Anche noi E' più brave Guarda come volano E' più brave Ora la inventiamo noi Ok arriviamo Lo stanno facendo tutti Sabri Siamo state bravissime Succedono cose Cose strane Succedono cose Cosa? Io non ho visto niente Tadio rotusto Guardate Vai Dioca voi Grazie a tutti Bravi 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 Ma poverina, lei non lo può fare con voi, che hai un conto sulla schiena, vai! E senza schiena, no no, guarda! Guarda come si ribaltano, guarda come si ribaltano! Qualcuno sta per fare una scoreggia! Loro si divertono anche così! Vabbè, io mentre voi siete contorte, rimanete così e tirate le punte la testa, inizio a salutarvi! Tutto bene? Sì, è anche questa qua! Tutto ok? Tua testa è attaccata? Ok! Poi là ci sono le altre! Dicevo che ho iniziato a salutarvi, perché mi tocca rientrare a casa! Ma, aspetta, arrivo eh! Volete che torno nella vostra palestra? Sì? E si mette senza testa! Tu non infortunarti più, eh! Mi raccomando! Ciao piccole! Fatele brave! Ci vediamo presto! Ciao! E io vi ho fatto vedere un backstage, ma vedrete che poi saranno dei video focus! Focus molto 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 belli, dove anche Andri... Io sono curioso di capire cosa c'è lassù che guardano tutti! Ma cosa stanno guardando adesso? Detto questo ragazzi, veramente è il momento di andare anche perché devo lasciarle lavorare! Vi racconterò un giorno tutto quello che fanno durante la loro, anzi non giornata, durante la loro settimana! Vi mando un bacio! Ve lo mandano anche loro, ma shh! Non possiamo disturbarle ora! Ci vediamo domani con il prossimo video! Ciao amore! Ciao anche a te! Ciao amore! Ci vediamo presto! Non abbaiarmi la prossima volta quando arrivo, eh! Ciao piccola! Ciao! Poi giochiamo anche noi a palla prigioniera! Ciao! Ciao!